ciao a tutti benvenuti in questo video oggi insieme vediamo la potatura del pesco innanzitutto vi posso dire che il periodo di potatura è quando il pesco va in fiore quindi ora siamo diciamo verso metà marzo e comunque quando va in fiore al momento giusto per la potatura iniziamo a vedere la struttura del pesco bisogna cercare di produrre un allevamento a vaso di impostare questo tipo di allevamento quindi scegliere possibilmente tre o quattro branchette principali che salgono con un'inclinazione non troppo verticale e che concludono con una punta per ogni branca anche essa comunque con una direzione piuttosto esterna la potatura sul pesco è una potatura piuttosto energica andremo a ridurre più o meno il 50 per cento dei rami misti anche fino al 70 in base alla vigoria della pianta in questo caso abbiamo comunque una vigoria buona quindi non dovremo fare una potatura eccessiva anche se comunque nel pesco in ogni caso si pota molto quindi opla mi metto i guanti e iniziamo a capire quali sono le branche da tenere per prima cosa andrò a togliere questi rami queste branche che sono sottostanti all'impalcatura delle branche principali perché comunque vanno vanno a dare fastidio sia per un discorso di praticità nella ad esempio nel tagliare l'erba nel passare sotto la pianta e poi vedete che prende una vigoria a salire quindi danno anche fastidio alle possibilità di sviluppo delle altre branche perché gli comunque gli tolgono luce quindi andrò sicuramente a togliere queste a questo punto andiamo a vedere quali quali branche abbiamo a disposizione e vediamo che abbiamo questa poi c'è questa qua a fianco e questa queste sono le branche principali il problema qual è in questo caso che queste due sono un po troppo vicine quindi tramite la potatura cercheremo di farle un po allontanare questa purtroppo è molto verticale quindi dovremo cercare via via che sale di farla sviluppare andando un po allargarsi mentre l'altra diciamo che è disposta abbastanza bene a questo punto dobbiamo andare a decidere quali punte possiamo lasciare e io ho visto che questa branche dobbiamo portarla ad aprirsi verso questa zona potrei pensare a questo punto di fare un taglio di ritorno qua e utilizzare questo ramo che poi andrà a concludersi con un'unica punta quindi posso andare a eliminare questa a eliminare questa prosecuzione verso l'alto a questo punto andiamo a capire quale può essere la nostra punta io direi che questa va bene perché va verso l'esterno quindi vado con un taglio di ritorno a eliminare quella tutta l'altra parte poi vado a togliere tutto quello che mi va in concorrenza comunque con con la mia punta tolgo i rametti troppo deboli i rametti anticipati anche se c'è qualche ramo troppo vigoroso posso andare a toglierlo però specialmente nel pesco bisogna agire sui rami troppo deboli ora come potete vedere qua abbiamo una branchetta secondaria che parte e va a fare concorrenza quindi io vado a abbassarla un po facendo un taglio a questa altezza mi vado a eliminare anche questi però lascio un piccolo lascio un piccolo moncone con una gemma perché dovete sapere che il pesco nel pesco le gemme latenti quando invecchia praticamente il presente è come se non avesse le gemme latenti perché le gemme via via quelle che non si schiudono subito via via che il ramo va a crescere poi vanno degenerano e non hanno più possibilità di buttare quindi quando abbiamo opportunità lasciamo lasciamo qualche magari una gemma basale in modo che da lì possano nascere rami nuovi per avere produzione nei prossimi anni andando a scendere facciamo sempre tagli o eliminiamo quei rami che non vanno bene come ho spiegato prima qua uguale lascio una gemma o facciamo tagli di ritorno come può ad esempio essere questo ok qua abbiamo un po troppi rami sovrapposti quindi questo posso andare a toglierlo questo pezzetto secco lo posso togliere e ora passiamo a quest'altra branchetta secondaria che anche qua va diciamo a darci fastidio perché va in concorrenza con la punta che abbiamo lasciato qua quindi dovremo anche qui operare con un taglio di ritorno e io potrei anche pensare di accorciare sicuramente a questa altezza e poi possiamo fare qualche altro taglio di ritorno in questa zona magari proprio a questa altezza qua ok vado a eliminare i rami più troppo deboli li vedete i rami anche troppo deboli perché hanno delle gemme scadenti quindi quelli li possiamo tranquillamente andare a togliere abbiamo anche questo ramo interno che possiamo anche tenere però dobbiamo parecchio di ridurlo perché sennò prenderà troppa vigoria quindi lo vado accorciare proprio basso giusto per farci fare qualche peschetta poi andiamo verso destra vediamo questo questo rametto che sale molto verticale io posso anche per il momento andare a togliere questo rametto anticipato e fare sempre un taglio di ritorno a questa altezza tolgo già che ci sono quello che è secco c'è pieno di di api che girano cosa ben positiva questi qua questo è troppo debole lo vado a eliminare uguale questi qua interni che mi danno fastidio tolgo un po' di secco e andiamo a vedere allora qui abbiamo quest'altra branchetta qua uguale questo è un rametto abbastanza debole però mi tengo qualche gemmetta per produrre qualche ramo nuovo per i prossimi anni questo è un rametto troppo debole anche qua uguale lo vado a monconare qua come vedete la pianta si allarga molto però è un bel rametto orizzontale quindi io voglio lasciare questo e vado a fare qualche taglio di ritorno potrei ad esempio accorciarlo a questa altezza e poi vado a togliere qualcosa di troppo questo rametto ad esempio ha molti molti rametti anticipati preferisco andare a togliermelo se no dovrei fare un sacco di tagli questo comunque lo posso anche togliere tutto tanto rimane solo un rametto debole e qua purtroppo questo ramo è un po' comunque ha pochi rami buoni nella parte più bassa si allarga un po' troppo però per quest'anno lo teniamo e vediamo che ributti nei monconetti che ho lasciato perché è un peccato farà un po' di produzione in questa zona e poi si rinfoltirà qua nel prossimo anno che avremo bisogno di rametti nuovi ora possiamo andare sulla prossima branca mi tolgo qualche rametto interno di quelli più deboli qualche d'uno lo lascio andiamo ad individuare la punta questa punta per avere un equilibrio dovrebbe puntare in quella direzione quindi diciamo che intanto mi tolgo questi interni che mi danno fastidio e io farei un taglio a questa altezza che sicuramente questa parte va tolta e potrei lasciare come punta anche questa faccio un taglio di ritorno mi vado a eliminare quello che è troppo troppo piccolo e lascio quella punta che è poco più alta di questa ma diciamo che come inclinazione va bene qua posso fare qualche taglio di ritorno su questo rametto mi vado a eliminare quelli più deboli o quelli di comunque quelli di troppo perché come abbiamo detto dobbiamo ridurre parecchio i rami misti questo che è interno lo andrò a togliere faccio un po' di pulizia interna questo lo posso ci lascio un buon conetto per avere rami nuovi i prossimi anni questo è un rametto anticipato lo vado a togliere qua sotto uguale potrei lasciare un moncone ok andando a scendere abbiamo tutte le altre branchette secondarie e continuiamo col nostro lavoro di selezione togliendo appunto i rametti troppo deboli e andiamo a fare qualche taglio di ritorno dove necessario abbiamo questa branchetta che è un po' interna adesso vengo di lì abbiamo detto che questa pianta ha un vigore abbastanza elevato quindi non dobbiamo esagerare con la potatura che deve essere comunque importante ma senza esagerare e invece nell'equilibrio delle branche la branca che sarà troppo vigorosa va potata di più mentre quelle meno vigorose si potano meno comunque più o meno sono abbastanza equilibrate come branca andiamo a vedere l'ultima punta in questa branca che dovrebbe puntarci a questo punto in questa direzione e potremmo anche utilizzare questa qua che ha una buona inclinazione da un po' allargare la pianta quindi togliamo tutto quello che c'è qua sopra vi faccio presente che prima abbiamo tolto parecchia dispersione di energia togliendo quei due rami che partivano sotto l'impalcatura quindi già abbiamo tolto parecchia vegetazione quindi non esageriamo troppo nella parte alta e poi come punta possiamo tenere anche considerando l'equilibrio con le altre branche potremmo tenere questa tolgo questo che è troppo debole andando a scendere tolgo anche questo che è un po' piccolino questo uguale ok continuo col togliere i rami interni che questi comunque ci danno parecchio fastidio andiamo a occuparci di questa parte qua possiamo fare qualche taglio un taglio di ritorno sicuramente a questa altezza eliminiamo questo che è un po' troppo verticale togliamo un po' di secco ora ci occupiamo di questa parte più bassa prendiamo in considerazione il fatto che qui in alto abbiamo già altri rami quindi io opterei per un taglio di ritorno qua si possono togliere questi più deboli facciamo un altro taglio di ritorno a questa altezza ok e di qua il solito discorso andiamo a togliere quelli troppo deboli e decidiamo dove accorciarci perché comunque è un ramo che è troppo ricco di rametti misti e comunque è troppo tende poi a salire quindi io opterei per un taglio di ritorno in un punto giusto come questo e vado a sfoltire ora i rami di troppo qua vado a fare un taglio di ritorno per alzare anche leggermente il ramo che è troppo basso un altro taglio di ritorno lo faccio qua in questa branchetta andiamo anche qua a fare un taglio di ritorno possiamo togliere questo che mi va a intrecciarsi con altri rami togliamo un po' di secco che male non fa e direi che la pianta a questo punto è abbastanza equilibrata come potete vedere più o meno tutte le punte sono equilibrate il volume tra una branca e l'altra è equilibrato sicuramente avremo una buona produzione e ogni anno la potatura è questa spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a mettere mi piace iscrivervi al canale e ci vediamo presto con altri video grazie a tutti ciao